Federica Bregnone, Ollus Canco Primo Aiuto, da quasi 30 anni opera nel settore delle malate e dei malati di cancro. Il progetto Paruk è molto famoso per le donne che sono in chemioterapia e dopo la chemioterapia. Perché Federica Bregnone, stella dello sci internazionale, è vicina all'Ollus Canco Primo Aiuto? Allora, io penso che sia intanto una cosa bella aiutare quelli che hanno dei problemi e soprattutto una malattia che è molto presente nel nostro mondo adesso ed è brutto. In più, mio nonno è mancato di cancro quando io ero solo una bambina e per cui mi fa piacere poter aiutare chi ha bisogno. Grazie Fede, una stagione di sci inizia da Solden fino alla finale Coppa del Mondo. Tu sei la più rappresentativa come titolo, hai vinto la Coppa del Mondo Generale che è il trofeo per eccellenza, bisogna ricordare, dello sci alpino. Non ci sono mondiali Olimpiadi, qual è il tuo grande obiettivo durante questa stagione agonistica? Allora, il mio obiettivo è, sono ovviamente il gigante Super G, nel senso che sarà una stagione piena di gare e io sarò presente tutti i weekend perché facendo sia discipline tecniche che veloci e sono separate le due e non abbiamo mai Super G gigante, ovviamente sarò presente sempre. Il mio obiettivo è quello di essere a livello, di essere sempre presente tutti i weekend e di sciare forte, quindi di provare a salire sul podio, a vincere delle gare. Nella mia carriera, come dici tu, ho vinto tutto, però sono ancora motivata, cioè sono ancora qui perché ho voglia di vivere queste emozioni, ho ancora voglia di mostrare a me stessa e al mio sport, di quello di cui sono capace su di sci, quindi non sono ancora pronta e ho voglia ancora di togliermi delle stesse soddisfazioni e non mi nascondo il gigante Super G, visto che ci sarà solo la Coppa del Mondo, saranno i miei obiettivi. Ultimissima cosa, lo sport, tornando all'escorso iniziale, può aiutare anche queste associazioni che hanno bisogno di visibilità, no? Sicuramente gli sportivi... Questo è un tranno importante. Esatto, gli sportivi secondo me sono, intanto sono l'immagine di una cosa pulita, di una cosa sana e possono aiutare tramite la loro visibilità, la loro notorietà, appunto le persone che hanno bisogno. Elena Curtoni, stella della velocità italiana internazionale, Ollus Canco Premo Aiuto, è vicina ai malati e alle malate di cancro. Tra i diversi progetti spicca il progetto Parrucche per sostenere le donne in chemioterapia perché un atleta come Elena Curtoni è vicina a questa associazione? Io penso che sia molto importante comunque sostenere queste realtà perché comunque sono reali, sono vere, succedono spesso purtroppo ed è bello anche dare importanza al fatto che la donna deve sentirsi bene in se stessa in ogni momento, quindi anche il fatto di predisporre delle parrucche o comunque dare modo di sentirsi femminile anche in queste situazioni brutte, difficili, è una cosa molto importante secondo me. Ok Elena, inizio un'altra soggione agonistica, tu sei gigante ma il focus principale è sul super gigante e sulla discesa libera. C'è una pista in particolare dove vorresti lasciare il segno in discesa? Ma sì, le discipline sono quelle, le piste posso scegliere tutte. Una vittoria, un podio e sempre una vittoria, un podio. Ma sì, alla fine sono arrivata ad un livello tale da poter andare al cancelletto e sentirmi consapevole di quello che posso fare e del valore che ho, quindi è solo da riuscire veramente a mettere sempre in pista quello che valgo veramente e farlo su ogni pista, non differente, farlo chiaramente se lo fai in Italia è tutto un altro sapore, però va bene anche dalle altre parti.